Ciao, oggi presento il trasmittore di VHF Highband Compact Digital. Il trasmittore può essere equipato con modulatori per DAB, DAB+, DVB-T2, DVB-T, IS-DB-T e così via. Il trasmittore ha un amplificatore di potenza, quindi l'efficienza è abbastanza alta. Nel singolo 3U-REC chassis potete avere da 250 W a 1 kW. Vi facciamo vedere dentro il trasmittore. Come potete vedere, il modulatore può essere disponibile con diversi codi per generare DAB, DAB+, DVB-T2, DVB-T, IS-DB-T e così via. In questo caso, c'è anche dentro un trasmittore satellite e terrestriale. Quindi potete ricevere da DVB-S, S2 o anche da DVB-T, IS-DB-T o DVB-T2 per ripetere ogni canale già sul l'air. Il pannello fronte ha una grida. Se rinnovete la grida con 4 scherzi, dentro c'è l'accesso ai due prodotti di potenza, che possono essere pluggiabili. Possono essere estrati dal REC chassis. C'è l'accesso ai due prodotti di potenza di potenza di potenza di potenza. Quindi è ridondante. Up to 500 W può essere 100% ridondante. E per un amplificatore più alto, per 1 kW o 750 W, può essere parzialmente ridondante. Ok, come potete vedere, il potere del trasmittore è ora di 500 W. Il MIR, il ratio di modulazione del trasmittore, è di circa 36 dB. E il potenza di potenza, il potenza di potenza, è di 1,273 W. Questo significa che hai un'efficienza di un po' meno di 40%. Ora stavamo lavorando a 210 MHz. Ora cambiiamo la frequenza e andiamo a 180 MHz. con la stessa potenza di potenza di potenza. As soon as soon as soon as soon as soon as soon as you switch on the trasmittore, l'adaptive precorrector non funziona perché ci si tratta di qualche tempo per essere setta per la nuova frequenza e per l'avestilare automatizzata. Ok, ora è iniziato a lavorare. Vedi che c'era qualcosa di più di 20 dB MIR. Ora siamo a 35 dB MIR, e siamo arrivati al máximo MIR per questa frequenza, che sarà in range di 36 dB, 37 dB. Un'altra cosa molto interessante è il sistema di controllo remoto. Hai un servizio web, dove puoi avere tutti i controlli di tutti i parametri principali del trasmittore. In questo caso è un trasmittore di DVB-T2. Puoi avere il mod A o mod B, il status del trasmittore, l'input T2MI o il transport stream. Hai tutti i controlli. Poi c'è l'avestilatore, i configurazioni di sistema, tre livelli di accesso, con diversa permissità, e anche i dispositivi. In questo caso c'è, come ho detto, un servizio multimodale, che può essere DVB-T2, DVB-T, IS-DBT, DVB-S e DVB-S2. Per ricordare, cose molto interessanti sono l'efficienza, la flexibilità di questa unità. In solo tre livelli, avete un 1kilo.